direi che la difficoltà è che tanti giovani vogliono vedere piuttosto film americani dunque è un po' difficile di fare un cinema di autore ambizioso, artistico diciamo che poi ha una connessione con la gioventù è difficilissimo e dunque con questo ma allo stesso tempo io sono convinto che il cinema ha a vedere con la gioventù il cinema è l'arte della gioventù e il pubblico del cinema è giovane dunque quando uno fa un film sempre spera di adressarsi di comunicare in un certo modo con la gioventù perché è veramente la cosa la più preziosa qui ho fatto un film con Giovanni che dice qualcosa dagli anni radicali dagli anni rivoluzionari del 70 sperando che c'è un ecoe di queste preoccupazioni con giovani che si riconoscono anche in movimenti politici contemporanei con Occupy Wall Street con Pussy Riot con tutte delle cose che almeno danno una certa fede nella generosità nella generosità e le ambizioni delle nuove generazioni che si riconoscono anche di una situazione che si riconosce